Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione e oggi parleremo di ipnosi online, ipnosi via web. È possibile dottore, sento molte volte, essere ipnotizzato, ipnotizzato online per Skype eccetera o altre soluzioni? Beh ragazzi, io dieci anni fa sono stato ipnotizzato compreso mio padre da Los Angeles, Beverly Hills, dalla dottoressa Rina Brunini e centinaia di persone già dieci anni fa erano ipnotizzate via Skype online, per cui posso reputarmi dopo dieci anni di esperienza nell'ipnosi online, posso reputarmi un esperto di ipnosi online e posso garantirti che non tutti i metodi di ipnosi possono ipnotizzare online per ovvi motivi di paletti, limiti e anche dubbi in materia. L'ipnosi di CS che esce, nasce, affonda le sue radici per il 90% nel metodo della dottoressa Rina Brunini che trovi su internet, ci sono anche sui video eccetera e del professor Michelanghel Garai, beh porta ad ipnotizzare senza nessun tipo di rischio, pericolo, dubbio e chi più ne ha più ne metta, ho diffidenza, ho paure online. Chi lo dice? Lo dice il sottoscritto che è stato tantissime volte ipnotizzato online mentre ero seduto nel mio ufficio tranquillamente e mi ricaricavo di energia positiva grazie alle sessioni online di ipnosi. Infatti io quando ipnotizzo ci sono delle sedute dal vivo ma moltissime le faccio online, tempo permettendo, attenzione, attenzione adesso è sospeso perché mi sto dedicando ad altro per sdoganare l'ipnosi e renderla accessibile alla massa al pubblico. Quindi qual è la differenza tra l'ipnosi online e l'ipnosi dal vivo? Beh ragazzi non esiste secondo la mia esperienza nessuna differenza, anzi per assurdo nell'ipnosi online la persona si sente tranquilla nella propria stanzetta senza andare in giro ad uscire dalla sua zona di comfort, di tranquillità, di serenità e chi più ne ha più ne mette. Inoltre il metodo DCS non prevede l'utilizzo di auricolari o cuffie come fanno la maggior parte qualcuno lo fa online anche se non ci credono di fondo perché i metodi, l'ipnosi conformista e commerciale prevede diversi paletti di approfondimento, di suggestionabilità eccetera eccetera che nel mio metodo non esiste, ok? Addirittura aggiungo che il mio metodo non vuole neanche la trans, va bene? Lo so che adesso tu magari che sei un esperto di ipnosi o hai letto qualche libro di ipnosi, come? Io so per certo che ci vuole la trans nell'ipnosi, beh ti posso garantire se mi segui che non ci vuole nessun tipo di trans, va bene? O almeno come la si intende nel gergo popolare, conformista e commerciale dell'ipnosi in Italia e all'estero. Per cui riassumendo e accorciando un po' questo video, l'ipnosi online su Skype è fattibile, è concreta, io sono un caso vivente sia come studente che come assistente della dottoressa Rina Brunini e anche come professionista dell'ipnosi, io posso ipnotizzare chiunque online, ok? Stratafacente dirò come, eccetera eccetera. Fammi tutte le domande del caso, seguimi su Facebook, metti mi piace, condividi i video eccetera, con gli amici parenti perché può essere l'input, il guide per fargli cambiare vita. Visite la mia fanpage ipnosi, auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino su Facebook, visite il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con gli amici parenti e conoscenti e poi visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino. E ricordati, ricordati, il fatto che non hai sentito parlare di ipnosi online non vuol dire che non esista e anche se ne hai sentito parlare non vuol dire che tutte sono uguali, ok? Per cui anche quando inventarono l'aereo, i fratelli Wright, nessuno ci credeva e li prendevano tutti in giro. Quindi io mi riferisco soprattutto a chi magari conosce un po' l'ipnosi e pensa che è necessaria la presenza fisica. Oggi non è più necessario. Naturalmente dipende da metodo a metodo. Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e al prossimo video.